Il quarto giorno. La corrente di Christian Rosenkratz. Oggi ci occupiamo della seconda grande corrente spirituale. Sotto un certo punto di vista, essa si trova in una posizione polare rispetto alla prima, che ieri abbiamo caratterizzato come la corrente della conoscenza spirituale. La seconda corrente può essere descritta come quella dell'operare nel e per il mondo. Si tratta di quella corrente che è guidata da Christian Rosenkratz. La grande domanda che qui si pone è la seguente. Chi era Christian Rosenkratz? Questa individualità ha iniziato l'ultima serie delle sue incarnazioni solamente nel XIII secolo, nel momento in cui l'umanità fu matura per sviluppare l'intelligenza individuale. La corrente dei rosacruciani è però molto, molto più vecchia di quella dell'antroposofia. L'incarnazione più conosciuta di Christian Rosenkratz è quella di Hiram Habif, costruttore del Tempio di Salomone. Questo Salomone fu in grado di riconoscere nella sua avveggenza le misure e le proporzioni del Tempio. Egli era in grado di percepire quale aspetto il Tempio dovesse avere secondo la volontà delle potenze spirituali, ma non era capace di eseguire i calcoli esatti necessari per la costruzione concreta dell'edificio. Per questo gli occorreva un architetto esperto nell'uso della materia terrena, capace di costruire qualcosa nella realtà terrena che non fosse soltanto visione, ma una concreta duratura realtà. Non ho intenzione di trattare qui la cosiddetta Leggenda del Tempio, alla quale Rudolf Steiner ha dedicato una serie di conferenze, oggi disponibili nel volume pubblicato col titolo La leggenda del Tempio e la leggenda aurea. E vi troviamo descritti il dramma che si consuma tra Salomone, il discendente di Abele, e Yeram, il discendente di Caino. Il dramma ci riporta infatti al conflitto tra Caino e Abele. La storia è già conosciuta dalla Bibbia. L'uno è un pastore e sacrifica un agnello del suo gregge. L'altro è un agricoltore e sacrifica i frutti del suo campo. Qual è la differenza tra i due? Il primo lascia le cose così come stanno e vive in armonia con la natura. L'altro vuole trasformare la terra, nobilitarla e coltivarla con le proprie mani. Caino ara la terra, semina e raccoglie. Grazie al suo lavoro, le forze del sole possono unirsi alla terra. Yahweh, l'Elohim della Luna, respinse queste forze solari e di conseguenza anche il sacrificio di Caino. In questo modo, nell'evoluzione dell'umanità nasce una dualità. Ci sono uomini che dispongono della saggezza e altri che possiedono le capacità. L'impulso a trasformare la terra, a farla diventare un tempio, è alla base più profonda della corrente erosicruciana. La finalità di questa corrente è legata ad un profondo mistero nell'evoluzione dell'uomo e della terra. Chi conosce bene l'opera di Rudolf Steiner sa che non solo ogni uomo, ma anche la terra stessa attraversano sempre nuove incarnazioni. La terra, così come noi la conosciamo oggi, ha già superato tre di tali incarnazioni. La prima viene indicata da Rudolf Steiner come antico Saturno, la seconda come antico sole, la terza come antica luna e la quarta è dunque la terra. Dopo la forma attuale ne seguiranno ancora altre tre, chiamate Giove, Venere e Vulcano. La prossima incarnazione della terra, lo stato di Giove, sarà molto diversa da quella attuale. La materia non esisterà più. La base di Giove sarà composta di etere. Ora, sarà così che l'essenza dell'attuale stato della terra, così come avverrà per l'uomo, passerà nel futuro stato di Giove. Perché questo possa avvenire, la terra deve però cambiare e trasformarsi e ciò deve avvenire per mano dell'uomo. Tutto quanto l'uomo nobilita, tutto quanto dalla natura egli trasforma in vera cultura, costituirà il germe della futura incarnazione della terra. Tutto il resto perirà. Questa trasformazione, questa nobilitazione è il compito dei cainiti. Ora proviamo a raccogliere ciò che si conosce nell'incarnazione di Christian Rosencrantz. Henry Friedpfeiffer mi raccontò che Rudolf Steiner gli disse che Giosuè sarebbe stato un'incarnazione di Christian Rosencrantz. Giosuè fu quel personaggio che condusse il popolo ebraico oltre il Giordano e che conquistò Gerico. Poi troviamo l'incarnazione di Hiram Abif e infine esiste un'incarnazione nella quale la corrente di Caino si unisce al Cristo. Ora, Christian Rosencrantz appare nella persona di Lazzaro che muore e viene risuscitato dal Cristo. Egli attraversa una iniziazione nella quale il Cristo stesso è lo Ierofante. Lazzaro risorto è Giovanni, quell'apostolo del quale la Bibbia dice Gesù lo amava. Egli è l'unico nella cerchia dei discepoli che è stato presente sotto la croce. Inoltre egli è anche il creatore del Vangelo di Giovanni e dell'Apocalisse. Frederick Rittelmeier la massima autorità della comunità dei cristiani un giorno mi raccontò di conoscere alcune incarnazioni successive di Christian Rosencrantz. In tutti i casi si sarebbe trattato di incarnazioni da martire. Questa individualità volle con ciò portare fino agli estremi il compimento della imitatio Christi il seguire il Cristo. Attorno all'anno 1230 Christian Rosencrantz viene riconosciuto ancora bambino come una delle future più grandi guide dell'umanità. Rudolf Steiner ha comunicato fatti importanti relativi a questa incarnazione. Possiamo trovare queste notizie tra l'altro in alcune conferenze contenute nel volume intitolato Il Cristianesimo Esoterico. Nel corso di questa incarnazione egli è come abbiamo già detto ancora molto giovane quando ciò avvenne 12 grandi rappresentanti dell'intera sapienza universale si riuniscono attorno a Christian Rosencrantz per far confluire in lui tutta la loro sapienza. Egli riceve dunque questa iniziazione muore però poco tempo dopo ancora prima di aver compiuto il suo ventesimo anno di vita. Egli rinasce poi nell'anno 1378 all'inizio del quindicesimo secolo Egli intraprende lunghi viaggi e nel 1459 è maturo per poter ricevere l'iniziazione a fratello della Rosa Croce. Questo tipo di iniziazione è descritto nelle nozze chimiche di Christian Rosencrantz Come ierofante opera niente meno che Manu Così possiamo vedere come una guida dell'umanità aiuta sempre l'altra. Agli inizi la corrente dei Rosa Croce deve rimanere completamente nascosta. Si lavorava verso l'interno così nelle manipolazioni dell'alchimia per esempio ciò che contava non era il risultato ma la manipolazione stessa e l'esperienza vissuta durante questa manipolazione Che cosa avviene quando una sostanza solida si trasforma in vapore e che cosa quando il vapore si risolidifica quando qualcosa si dissolve e questa soluzione nuovamente si cristallizza l'anima dell'alchimista accompagnava interiormente questi processi la grande domanda era che cosa è la quinta essenza il quinto elemento oltre ai quattro elementi terra acqua aria e fuoco essa era il mondo eterico del quale gli alchimisti supponevano l'esistenza ma che non era ancora possibile trovare l'alchimista aveva la sensazione la materia deve essere trasformata in questa quinta sostanza l'etere tutto ciò non si svolgeva però sotto gli occhi di tutti pubblicamente vigeva la legge assoluta che il rosa croce dovesse operare in segreto se diventava di pubblico dominio che qualcuno operava come rosa croce lo stesso giorno questi doveva abbandonare la propria casa per incominciare sotto altro nome e in un'altra città una nuova vita questa regola era assolutamente necessaria tra l'altro perché solo così era possibile sfuggire all'inquisizione che altrimenti avrebbe sicuramente reso impossibile la vita dei rosa croce soltanto cent'anni dopo la sua morte fu concesso di rendere noto che christian rosenkratz era vissuto questa regola continua ad essere valida anche per quanto concerne le sue incarnazioni successive perché da allora in ogni secolo ha avuto luogo un'incarnazione di christian rosenkratz quando un giorno si chiese a rudel steiner se questi fosse incarnato anche in quel momento egli lo confermò ma quando gli fu chiesto chi fosse egli rispose non è possibile dirlo la missione di christian rosenkratz è dunque legata al compito della trasformazione della terra nel futuro giove ora domandiamoci che cosa succede quando gli uomini arano la terra quando secondo principi alchemici essi producono dei preparati che veicolano le forze eteriche della terra ogni qual volta un pezzetto di terra viene nobilitato r fried pfeiffer che con gli esseri elementari coltivava per così dire un rapporto cameratesco raccontava come questi esseri si trasformino quando l'uomo lavora la terra il lavoro che l'uomo dedica alla terra le aiuta nella loro evoluzione chi sono dunque i moderni rosacruciani sono coloro che lavorano per l'affinamento della materia Rodolf Steiner una volta disse per mano dell'uomo la terra deve trasformarsi in un'opera d'arte solamente questa opera d'arte potrà diventare il germe di una futura evoluzione tutto il resto non vi parteciperà ho già detto dobbiamo cercare i rosacruciani moderni per esempio tra agricoltori biodinamici basta osservare come si lavora con i preparati vengono sotterrati in estate oppure anche a seconda dei casi proprio in inverno dopo che sono stati nuovamente di sotterrati si appendono ad un albero molto alto per esporli all'influenza delle forze dell'aria e della luce si lavora dunque chiaramente in modi diversi con i quattro elementi proprio come avveniva nell'alchimia cosa fa un agricoltore quando in qualche posto sperduto della campagna giorno dopo giorno fatica silenzioso per poter sopravvivere quando prepara un cumulo per il composto egli trasforma un pezzo della terra e questo ha un valore eterno per chi appartiene alla corrente della conoscenza accade anche troppo facilmente che a tali persone si guardi dall'alto in basso dicendo egli non riesce nemmeno a fare una meditazione ma anche la preparazione di un cumulo è una meditazione una meditazione rosicruciana un secondo gruppo di rosicruciani si può individuare tra i farmacisti antroposofi si tratta di coloro che producono i medicinali se osserviamo per esempio i processi di produzione della vala un'impresa di produzione farmaceutica antroposofica possiamo incontrare anche lì dei processi alchemici si espone per esempio la materia all'influenza del grande ritmo del giorno e della notte al sole matutino al sole della sera al sole invernale al sole estivo fu Rudolf Steiner colui al quale dobbiamo le indicazioni di come produrre i preparati medicinali eppure egli non era né agricoltore né farmacista non era il suo compito carmico eseguire con le proprie mani questo lavoro io stesso da un determinato momento in poi mi sono abituato al seguente comportamento quando prescrivevo un medicamento ad un paziente e prendevo in mano la relativa bottiglietta diciamo per esempio arnica di 20 allora pensavo tengo qui in mano un pezzettino di terra trasformata le sostanze della pianta dell'arnica sono completamente scomparse dal liquido ma è stata conservata la loro struttura eterica in questa bottigina c'è già un po' della sostanza di Giove alla quale si deve guardare con grande venerazione se come medico o paziente si sente questa venerazione allora la medicina ha un effetto ancora maggiore ho imparato questo sentimento di venerazione dal mio amico Herbert Hahn che per lungo tempo è vissuto in Olanda Hahn era capace di bere un bicchiere d'acqua con grande venerazione allora diceva questa è acqua buona una volta Eli mi raccontò che assieme a Rudolf Steiner seduti su una terrazza avevano ordinato un caffè quando il caffè fu servito Rudolf Steiner vi aggiunse alcune zollette di zucchero e poi guardò attentamente per lungo tempo nella tazza del caffè ad un certo punto già era passato un tempo quasi insopportabilmente lungo Hahn gli domandò perché lo facesse e Steiner gli rispose se solo gli uomini sapessero quale grandioso processo universale si svolge quando dello zucchero si scioglie nel caffè poi Hahn disse Steiner non gustava del caffè ma dei processi cosmici solo da Herbert Hahn era possibile sentire raccontare cose simili egli possedeva un organo di percezione per queste cose egli lo notava perciò anche quando succedevano a Rudolf Steiner nel movimento medico antroposofico si possono incontrare dei medici che sono dei veri rosicruciani essi pensano in termini di medicinali cioè essi vedono un paziente e sanno intuitivamente Arnica oppure Aurum nel loro caso la diagnosi comprende già anche il rimedio il più bell'esempio fu Hilmar Wolter una collaboratrice di Ita Wegman ella prendeva sempre nota di tutto ciò che Rudolf Steiner diceva durante i consulti sui pazienti più tardi ne scrisse anche un libro fu mio destino dopo la guerra esaurito in seguito all'inverno di fame e al pesante lavoro nell'Oceane poter trascorrere un certo periodo ad Ascona per rimettermi in forze là esiste una dependenza della clinica Ita Wegman di Arlesheim dividevo una camera con Albrecht Stronsheim che si trovava in condizioni simili alle mie una mattina guardai fuori dalla finestra avevo una vista splendida sul lago maggiore quando vidi aprirsi una porta ed uscire una figura con un mantello nero guardatasi attorno Guardinga sparì poi in direzione dei pendii montagnosi dietro la città si trattava di Ilmar Volter che faceva il suo giro per raccogliere erbe quando dopo due ore tornò all'incirca verso le sette e mezzo e la preparò i medicinali che quel pomeriggio intendeva somministrare ai suoi pazienti una volta un po' scherzando e un po' sul serio le dissi Hilma mi puoi curare ma non voglio avere più di diciassette diversi medicinali nello stesso giorno naturalmente questa fu un'osservazione insolente eppure mi ingannò mettendo quattro o cinque cose diverse in un'unica iniezione Hilma Volter possedeva una profonda conoscenza della costituzione umana davanti al suo occhio spirituale ella vedeva i complessi processi vitali e sapeva quale medicinale apparteneva a ciascun specifico processo anche l'arte è inserita nella corrente osicruciana uno scultore che da una pietra crea una scultura e leva la materia a un gradino superiore il pittore che dispone i colori sulla tela lavora nella sfera di confine tra il mondo fisico e il mondo eterico gli artisti che realmente creano figurativamente devono disporre di una profonda conoscenza della materia uno scultore non può lavorare il marmo senza scoprirne i suoi misteri fisici e altrettanto deve conoscere la struttura del legno col quale lavora in questo contesto è importante richiamare l'attenzione sul fatto che Rudolf Steiner pur trovandosi nella corrente della conoscenza abbia indicato la disciplina esoterica da lui rappresentata e descritta nel suo libro come si conseguono le conoscenze dei mondi superiori come una via rosicruciana perché lo fece? perché Christian Rosenkratz ci apre gli occhi alla realtà del mondo fisico nella società teosofica orientata verso l'antica sapienza orientale non c'era comprensione per questo ivi regnava all'opposta tendenza ad allontanarsi dal mondo fisico al centro dell'interesse non c'erano le proprie percezioni ma i messaggi dei maestri trasmessi per via mediana rudolf steiner diceva prendi un seme e osservalo prendi una matita e osserva come è fatta steiner prende dunque le mosse dalla realtà fisica questa questa era una terapia estremamente necessaria per il pubblico teosofico di allora e per e per rendere evidente che non rappresentava un indirizzo nel senso della tradizione orientale ma quella dell'occidente e li fece riferimento a christian rosenkratz quale ispiratore del cammino esoterico antroposofico rudolf steiner volle sorprendere i teosofi di allora con il linguaggio disincantato del suo libro come si conseguono le conoscenze dei mondi superiori che senso può avere conoscere a quale corrente spirituale si appartiene dunque una volta riconosciuto questo si è in grado di guardare oltre i soliti compiti e mete immediatamente vicini allora si sa che si deve guardare al proprio lavoro in un contesto più grande se non si vede il contesto più grande della propria attività a lungo andare non si va abbastanza avanti naturalmente occorre rendersi continuamente conto di avere a che fare anche con le altre correnti non si è mai esclusivamente rosa cruciani l'uomo è un essere triarticolato egli pensa sente e agisce e così anche per le tre correnti anche il rosa cruciano ha un legame con Rudolf Steiner perché quello che sa lo sa solamente grazie a Rudolf Steiner senza lo studio dell'antroposofia al giorno d'oggi non si può essere coscientemente un rosa cruciano è però anche vero che ogni uomo ha un determinato compito da assolvere nella presente incarnazione e se non trova questo compito diventa un infelice nella mia veste di psichiatra incontrai molte persone in queste condizioni invecchiando molte di loro avevano la sensazione in fondo avrei dovuto fare questo o quell'altro ma non l'ho fatto e perché no perché esse pensavano che fosse impossibile perché nella loro vita non avevano il coraggio di correre dei rischi sovente persone simili pensano poi ora è troppo tardi ma questo è un grosso errore di pensiero non è mai troppo tardi esistono persone di lenta maturazione che soltanto a 70 anni scoprono quale sia il loro compito di questa vita allora succede improvvisamente che tutto diventa possibile ed esse sono in grado di fare cose che nessuno si sarebbe più aspettato da loro